Ciao a tutti, sono Olivia Caramella e oggi vorrei raccontarvi delle cose che mi sono successe in realtà non è niente rieglatante però boh, mi fanno rire stavo a camminare come al solito e tipo dovevo attraversare una strada da cui non c'erano le strisce e quindi partivano tutte macchine veloci vabbè, aspettiamo un attimo qua un po' di cautela e tipo accanto a me arriva una signora con il passeggino e tipo fa sbucare il passeggino in mezzo alla strada e tipo, cosa? tipo, sì sì, vai a vedere se si può passare oppure tipo, vedi un po' oh no, non si può, cioè ma è pazza tanto non mi sta là a vedere un... vabbè, niente, questa cosa mi ha fatto ridere però vabbè poi più avanti ci stava un tizio che stava a camminare così davanti a me poi una strada tipo fa così sullo specchietto di un motorino fa si sistema un po' e poi tutto a posto e tipo, ma che cazzo poi volevo andare al tabacchio e volevo comprarmi le goliador e io entro e ci sta tipo uno mi fa ciao e faccio, oddio che cazzo è cioè ho pensato tipo oddio, spero che non sia uno di cui non mi ricordo cioè non mi fa di fare questa figura di merda e faccio tipo lui fa sei una fumatrice? l'ho fatto, se così ho capito che era uno di quelli che fanno tipo i sondaggi, no? lui fa sei una fumatrice? io, eh, sì eh, che sigarette volevi acquistare? e io, no, veramente io volevo le goliador lui, ah e io, eh vabbè, io mi pio le goliador lui mi fa, ah, l'hai preso il blu? io ho fatto sì, blu e me ne sono andata oddio io non capisco perché mi succedono queste cose tipo una volta una tizia arriva mi fa eh, dov'è la metro? io gli faccio, eh, di là no e se ne va e tipo ma come no? poi è andata tipo da un'altra parte è andata a chiedere ho visto che mi ripassava a fianco e tipo a stronza ma come ti permetti? poi volevo farvi vedere questo che è un mini rossetto cioè è un mini rossetto guardate che carino praticamente io tipo un giorno stavo in bagno l'ho adocchiato ho fatto oddio che carino lo voglio solo che era di mia madre quindi per due giorni tipo lo adocchiavo così poi ho detto senti posso prendermelo lei mi ha fatto sì guarda che carino così piccolo comunque queste erano le mie avventure giornaliere nulla di che comunque volevo ringraziarvi a tutti per le cose carine che mi scrivete tutte quelle cose non c'è ma c'è rispondo a tutti però ve lo dico grazie 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 io vi adoro e niente ciao